No, non vieni. Parliamo d'amore. Ecco, ci mancava. Io stai, dicevo, tra me e me, dicevo... Tutto bene, tutto sommato. Abbiamo passato il viaggio. Anni fa un sondaggio rivelò che una donna su tre avrebbe pagato 5.000 euro pur di passare una notte con lei. Pensi come erano messe queste donne. E lei ha risposto... Pagavano pure, capito? Ma è un sondaggio, no? Neanche poco. Sarà state tutte novantenni. Comunque lei... Ricche, in pensione. Il suo pubblico. Ma lei ha risposto, a me non hanno mai offerto nulla. Ma in effetti cosa vuole? È normale. Ma lei piace le donne? Io piaccio le donne? No, a me piacciono le donne. Sì, ma... Mi sono sempre piaciute. Poi non lo so se... Lei piace, però, le donne. Qualcosa piacerebbe. Sarò piaciuto, no? Sarò, vede? Sarò piaciuto a qualcuna. Cosa piace di lei? Ma il fatto che sono diretto, allegro, vivo un'altra vita rispetto al modo di vivere la televisione e so ascoltare. Secondo me questo sì. Quello. E poi forse anche perché poi... Vede, io odio la quotidianità. Eh. E quindi nel rapporto, ho sempre cercato di vivere la grande passione degli attimi. E quindi in quel momento hai grandi attimi. Poi non gli dai la continuità, quindi dopo un po' si scocciano. Eh, non ho capito. Però quegli attimi li vivono bene, ha capito? Ma che vuol dire? Cioè, poco ma bene. Sì, la metta così alla sordi. Poco ma bene, sì. Eh. Sono di quella linea. Senta, c'è chi giura che tanti anni fa, a casa sua, a cena, lei ha tirato fuori una scatola di scarpe con tutte le foto tipo collezionista di donne. Possibile? Non è vero? Cioè, secondo lei io la collezione di donne? No, magari uno un ricordo ce l'ha, non è che ha fatto... No, qualcuna che ha detto qualcosa di simile, cioè, vede, perché la scatola esiste. Ah, vede? Ma la scatola esiste con 30 anni della mia vita, ci sono i miei compagni di scuola, ci sono... Non ci sono solo donne. Ma no, ci sono... Ma credo che se saranno 5 o 6 in quella scatola, perché partiene dal passato, 30 anni di cose. Ma le pare che io metto le... Cioè, vai, su. Senta, piace più agli uomini o alle donne, lei? Piace a tutte e due, sia agli uomini che alle donne? Cioè, ma al gioglio... Al gioglio e alle donne, al gioglio... No, perché la domanda è ambigua, è ambigua, è ambigua. Ma io credo che uno debba piacere, siamo nel 2023. Quindi, qual è il problema? No, nessuno. Mi vuole candidare a Sanremo 2024, visto che è sempre molto fluido tutto. Facciamolo, facciamolo. Ma lei un po' si è mai invaghito di un uomo? Mai. No, mai. Mai è successo. No, non è che sia un reato. No, no, è che per carità. È successo o non è successo? No. Lei ha detto... Le dico una cosa che non ho mai... Ma quante cose ho detto? Abbia pazienza, veramente. Parlate tutti tanto. Ma anche cazzate ho detto, mi sono accorgendo. Ma parlate tutti tanto. Eh, ma... Le dico una cosa che non ho mai rivelato, ha detto lei. Ho un amore grande per una donna. Mi vive dentro da dieci anni un sentimento al riparo, come un giardino segreto che non voglio dividere con nessuno. E quindi... Ma esiste? Tipo marca Tagirone questa. No, esiste, esiste, esiste. Esiste, esiste, è in pista. È in pista. Così, così. Ma sai, mi faccia... Mi faccia vivere dei giardini, dei giardini privati, coltivati, di cui già sanno tutto. Uno si tiene il suo giardino, lo tiene lì e coltiva. Lei una volta ha detto sono onesto, con le donne sono stato un po' disonesto. Ma perché... No, un po', molto. Tanto. Ah, vede, è sincero. Ma perché, diciamo, le ha tradite oppure ha tradito le loro aspettative? La difficoltà è che uno è sempre alla ricerca e la ricerca comporta dei tradimenti. Però non è che ti metti con un monaco... Cioè, lei lo dice prima? No, no, ma su questo sì. Poi è chiaro che c'è l'illusione di dire magari, chissà, la tendenza infermieristica di voi donne lo curo. Eh, mammo, generalizziamo. Giletti è incurabile. È incurabile. Mettiamolo così. Era ormai monacale. Ma lei è mai convissuto? Io? Eh. Sì, ho convissuto. Sì, ride. Un paio di volte, sì. Una, due, tre mesi. Ah, beh. Un'altra volta un paio d'anni. Ah, è una vacanza più che una convivenza. Beh, adesso è una vacanza. Per me, per i miei parametri, è importante. Senta, con Alessandra Moretti, l'eurodeputata del PD, che ci è rimasta male perché lei ha detto una cosa privata. Aveva ragione. Nel senso che io non avevo detto... Cioè, il senso era... Se vuole finire la domanda... No, no, neanche lo ricordiamo per non mancarle di rispetto, ma lei aveva fatto riferimento, diciamo, a una cosa privata della gestione familiare. Ma non era quello. Il senso era che Alessandra... Io parlo di Alessandra. Alessandra è una donna in gamba. I figli, quando una madre gli sta dietro, nonostante mille casini, e gli sta sempre dietro... Era meritorio nei confronti suoi, non voleva essere offensione. Nel fratello ex marito. Ma certo, è chiaro che c'era anche il marito, ma io... Il mio filtro è lei, il mio filber che era lei. Perché lei ha detto l'ha cresciuta da sola. Ma sì. Lei ci è rimasto talmente male che ha detto lo querelo, non l'ha querelata. E no, altrettanto guardi, c'erano 50 di querele ogni anno, quindi... Ma l'ha querelata, no. Sì? Non lo so, sa che le querele arrivano dopo... Beh, le sarà arrivate l'elezione a domicilio? Le è arrivata? Al momento no, ma c'è tempo, sa che c'è molto tempo. C'è qualche mese. C'è tempo, qualche mese. Quante querele ha adesso? Ma i processi, credo, hanno dovuto una 62, altro che Berlusconi. Mi sembra, Berlusconi 37. Io sono a 62, 63. È pronto per candidarsi? Quindi... Eh, beh. Beh, se guardiamo le querele ci sta tutto. Senta, comunque le hanno attribuito tantissimi flirt. L'ultimo sa... Ancora? L'ultimo sa qual è? No, mi manca, perché francamente sono animi. Eh, ma è innamorato adesso, mettiamola così. Innamorato della vita, sempre. Ma anche delle nevi. Guarda, è duro. Delle? Nevi. delle montagne. Heidi, avete capito? È Heidi, vive in me, lo libero, Heidi. No, c'è chi dice che si è innamorato delle montagne. Eh. Io sono cresciuto nelle montagne, quindi mi trovo molto a mio agio. Quindi la risposta è sì. Nelle montagne. Ah, le montagne. Quelle vincenti. Cioè, stiamo parlando noi due su una cosa che sappiamo solo noi due, quindi, però chi capisce, capisce. Le montagne vincenti, ci piacciono, insomma. c'è una cosa... Beh, a me i perdenti non sono mai piaciuti. non sono mai piaciuti.